Manola Di Pasquale, oggi questo incontro nella sua sede elettorale per parlare di democrazia partecipata, perché farà parte del programma del PD alla corsa al Comune di Teramo. Io credo che la democrazia partecipata sia il cuore di un programma, perché è un programma che non è discusso, non nasce con la città, non ha motivo di esistere, perché bisogna cogliere i veri motivi, le vere problematiche e le vere situazioni che vive una città, verrà nel cuore. Come diceva adesso una persona con cui parlavo, bisogna ridare e mantenere e conservare l'anima di Teramo, quindi io credo che il rapporto diretto è la parte essenziale. Poi abbiamo avuto degli esempi negativi nell'ultimo amministrazione Brucchi, ricordiamo la questione che riguardava lo stadio comunale, dove si era deciso di fare lì il teatro, ma in realtà non si era poi sentita la città, se effettivamente volevano rimuovere o no una parte storica, una parte di un'anima di una città e poi è stato avviato un regolamento per poter fare il referendum, ma in realtà non è stato fatto, quindi credo che gli istituti di partecipazione vadano rinforzati per cogliere le vere problematiche e dare poi delle risposte. Stefano Novelli è un assessore del Comune di Grotta Mare. Per il Comune di Grotta Mare grande importanza alla democrazia partecipata. Sì, esatto, Grotta Mare ormai da vent'anni pratica questa esperienza, che si è costituita con un vero e proprio modus operandi, che ha caratterizzato gli scorsi mandati amministrativi a partire dal 1994, ergendosi Grotta Mare a rappresentazione di questa prassi, di questa pratica, che si è consolidata negli scorsi decenni. È stato infatti Grotta Mare uno dei primi comuni d'Europa a praticare il bilancio partecipativo, stabilendo questo rapporto, questa relazione virtuosa che in realtà ha investito la compagine amministrativa, la compagine del governo municipale e i cittadini.